Volevo solo ricordare che sia le antologie del premio che questi libri che stiamo presentando questa sera sono a disposizione alla fine della manifestazione, chi volesse dare un contributo è sempre piacere. Passiamo adesso alla sezione speciale per i cerconi. Volevo intanto cercare di essere più trasparente possibile nelle modalità di voto, i giurati sono stati nuovi, ognuno di questi giurati ha portato per tutte e tre le sezioni, quindi la sezione delle bulle singole, la sezione della singole, e la sezione speciale per i cerconi. Allora, le posie si presentano giurati in formato anonimo, ognuno le vota distintamente, poi viene fatta in maniera aritmetica e in base alla gradatoria dal più alto, realmente al più basso, si hanno le prime tre posizioni. In realtà abbiamo anche posizioni da quattro al decimo, abbiamo considerato tutti quanti, da quattro al decimo, quattro a fare merito per non creare, insomma, ulteriori comprensioni. Queste sono state le posizioni di tutti quanti, tutti i giurati, no, insomma, hanno votato, ognuno per il punto suo. Sì, sì, perché abbiamo votato in un po' di bambino. Grazie. Ora, volevo chiamare, come terza personale della sezione speciale dei cerconi, Valentina Pokesci. Grazie. 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 Grazie.